Coppa che inizierà a breve, squadre che puntano a migliorare la propria posizione per qualificarsi. Tutto pronto, si parte. Totti! E c'è la deviazione sopra la traversa. Totti! E c'è il gol! Palla in rete! C'è spazio per andare. Cerca i compagni. Iguain! Splendida la parata in tuffo per il portiere. Cerca la rete! Grande parata, che riflesso! Buona il cross. Iacovic! E c'è il gol! Arriva dunque il pareggio. Ecco il tiro! Comincia ora il secondo tempo. Ecco il tiro! E possono festeggiare il gol del vantaggio. Trova ad andare. Straordinario riflesso. Una grande conclusione. Occhio alla botta. Palo, occasione. Palla ancora buona. Ci sarà la rimessa del portiere. Baragna metri. Iguain è arrivato il gol. Incredibile! Ci provano ancora. Non è finita. Vogliono vincere. Cross, pericolo. Iguain! Palo esterno. Il pallone esce. Time! Alla fine! Br kennt Spicace! Stalo reg pegar il barare. Abaigen!